La trovavi sexy, la cameriera? Quale dici? Quella con cui flertavi. Ah, smettila. Ero solo gentile. Grazie per l'altra sera. Baci Miranda. Non mi incontro con le donne. Coppie sì, ma una donna sola. Penso che a mio marito piacerebbe. Lei come si chiama? Chloe. Mio marito mi tradisce. Almeno credo. Voglio che lo incontri. Scusi, mi scusi. Posso prendere lo zucchero? Certo. Voglio scoprirlo. Grazie. Voglio sapere che cosa fa quando la vede. Io gli ho proposto di andare a fare una passeggiata, ma lui non ha voluto baciarmi perché era sposato. Abbiamo passeggiato in mezzo alle piante esotiche. E poi io... Non le avevo detto di fare questo. Mi ha chiesto se poteva baciarmi. Lei mente. Passa tutta la notte a casa mia senza che io lo sappia. Il nostro accordo economico... perché di questo si trattava... finisce qui. Perché di questo si tratta... Grazie a tutti